Eccoci qua tornati per un nuovo video, un video questa volta sul, stavo dicendo sul Frosinone, ma in realtà è sul Venezia, però appunto l'ex allenatore della Frosinone, ovvero di Francesco, che ha fatto molto bene, ha fatto molto bene secondo me col Frosinone, ha mostrato anche una duttilità nel comunque cambiare modulo, cercare un po' le alternative, forse aveva una squadra un po' troppo giovane, un po' troppo legata a dei prestiti, che non aveva proprio l'anima della squadra nel sangue e quindi forse si sono sentiti anche un po' già salvi, un po' quello che era successo a Lecce due anni fa, allo stesso Lecce quest'anno, quando comunque erano entrambe, sia Lecce che Frosinone, le davamo quasi per salve e poi pian piano sono calati, Lecce poi anche con Gotti ha ripreso la situazione di Francesco, si è approvato, ha fatto anche delle partite violentando la sua indole di cercare sempre il possesso palla, le verticalizzazioni, insomma il gioco spettacolare sulle fasce, che comunque lui ha fatto soprattutto al Sassuolo e comunque anche in parte alla Roma, nei momenti belli nella Roma e che poi non era più riuscito a fare le esperienze successive, Cagliari, Verona, Sampdoria, insomma qui aveva fatto male, quindi da un certo punto di vista è da apprezzare e forse anche per questo il Venezia gli vuole dare un'altra chance. E poi tanti prestiti secondo me, tanti giocatori molto giovani e alcuni molto vali, insomma Di Sulesi parlava bene, ne parlavamo anche noi, sapevamo insomma che era un giocatore valido, però insomma l'ha lanciato lui. Brescianini è stato uno dei primi, se andate a vedere uno dei primi video del canale in cui parlavamo di un Brescianini potenziale nuovo Barella, non ci è arrivato ancora, però ha fatto un grandissimo bel campionato e probabilmente lui non resterà al Frosinone, poi vediamo, magari potrebbe andare benissimo al Venezia o addirittura forse non meriterebbe secondo me andare a un livello ancora più alto, quindi per lottare magari per le squadre di mezza classifica, insomma io lo auguro perché è un giocatore che è seguito anche in B e mi piaceva molto e anche per questo l'anno scorso ve lo consigliai. Però detto questo, insomma, non si mette, chiaramente probabilmente l'ha chiamato in questo momento solo il Venezia, anche se c'erano delle idee con l'Empoli, qualcosa in realtà si parlava anche dell'Udinese, insomma. Però non è una situazione facilissima per Di Francesco, bisogna dire, anche se il Venezia appunto è arrivata alla fine, alla qualificazione in Serie A, vincendolo i play-off, però adesso con Di Francesco bisogna vedere perché con Vanoli è vero che ha iniziato a giocare a 4, 4-3, però poi è andato via a Jonsen a gennaio, Vanoli è passato completamente alla difesa 3, al 3-5-2, che è il modulo che poi in realtà spesso ha utilizzato di Francesco l'anno scorso quando poi ha rilanciato definitivamente Zortè, altro giocatore validissimo. Dall'altra parte poi è arrivato Valeri che non ha fatto, sia Valeri che Lirola hanno dato molto meno... Valeri secondo me, poi ne parleremo quando parleremo del Parma, dei giocatori del Parma soprattutto, però non è adatto secondo me per giocare da quinto, ma più da quarto, quindi potrebbe essere buono nel Parma, ma insomma ne parleremo, non mischiamo le cose. Lirola invece secondo me è un giocatore, sì, che ha comunque una carriera, che ha fatto quasi sempre giocare nelle serie A l'anno scorso in Liga, nella squadra, non ricordo più quale, ma che fece pochissimi punti nella Liga Spagnola, quindi insomma gioca sì, ma gioca sempre su livelli di squadre basse e lui non dà l'apporto, secondo me, che ci si aspettava quando diciamo nacque calcisticamente Lirola. Zortè è invece un giocatore molto valido. La difesa, insomma, lui comunque pur giocando a tre ha un tipo di difesa molto aggressiva. Le linee, lui tendenzialmente vuole la squadra che, almeno questo in fase di non possesso, porta, aggredisce subito, quindi vuole i centri albisti, in realtà non che vanno in avanti, ma vanno subito a bloccare la parte, cerca di indirizzare ovviamente la palla verso gli esterni e subito i due mediani si muovono in maniera, alle volte confusionale, alle volte positiva, per chiudere, insomma, le linee di passaggio sul lato sinistro. Quindi è un tipo di pressing, come magari abbiamo visto di altre squadre, che magari vanno subito ad aggredire gli avversari in alto. Le squadre di Francesco tendenzialmente cercano di portare la squadra avversaria sul lato sinistro o destro e si uniscono l'esterno, diciamo l'ala offensiva, con i due mediani. Nel 3-5-2 qualcosa di diverso, però comunque vuole sempre una specie di gabbia dei giocatori verso la fascia laterale, che non è assolutamente negativo. Però comunque la difesa in generale è costretta ad alzarsi perché la parte centrale viene scoperta e quindi il problema sono le ripartenze offensive, magari i lanci lunghi che possono mettere in difficoltà. Anche difensori magari veloci come Ocoli, come lo stesso in parte Monterisi, che comunque non è un giocatore lento, anche perché nasce terzino, ha avuto un po' di difficoltà in questa maniera, però diciamo in generale fino a dicembre e gennaio la squadra aveva avuto un bel rendimento, c'era stato anche un bel inizio con Arrui, lui comunque appunto come dicevo prima si è evoluto, non ha voluto giocare con due esterni offensivi, super offensivi magari una volta sull'è, che spesso si accentrava magari per dialogare con la punta o col terzino che avanzava. L'altro esterno è stato anche Renier, è vero, un giocatore molto offensivo, però all'inizio stagione è stato molto Arrui, che è un centrocampista, tra uno dei giocatori forse di maggiore esperienza, a meno di Serie A, però poi si è fatto male molto, secondo me quella è stata un'infortunio che ha pesato tanto, poi Caio Giorgio e Cuni hanno deluso, su Cuni effettivamente non è che ci fosse tutta questa attesa, su Caio Giorgio un po' di più, ha fatto qualcosina, poi ha sbagliato anche tantissime reti, tanto è vero che poi nel finale si è andati avanti con che dire, che poi ha segnato 7-8 reti, quindi alla fine non ha fatto neanche malissimo, considerando che non ha giocato tanto. Quindi questo, io ho parlato in realtà adesso del Frosinone, ma adesso ci buttiamo, quindi comunque vediamo, è interessante capire se, come io credo, partirà un nuovo po' esterno del Venezia e Pierini, che non so se sia un giocatore per questo livello di Serie A, per fare il titolare, sinceramente. e quindi in realtà, devo dire la verità, è uno dei video in cui mi trovo maggiormente in difficoltà per farvi un'analisi tattica, però diciamo, magari nel campetto andiamo a vedere entrambe le cose, quindi ci tuffiamo l'analisi tattica, vediamo un po' la possibilità del 3-5-2, quindi in stile Ultimo Frosinone, proseguendo sulla falsariga di Vanoli, oppure passiamo, vediamo anche il 4-3-3, che secondo me comunque potrebbe essere adattato, vediamo anche appunto come funzionerà il mercato, insomma non è una situazione facilissima, devo dire la verità, però è anche vero che il Venezia si è trovato senza Vanoli, ha dovuto trovare un'alternativa, e secondo me con Di Francesco ha trovato comunque un allenatore esperto, valido, però insomma, ma è come, dipende per tutte le squadre, ma insomma per il Venezia, che comunque ha delle certezze, bisogna vedere appunto se manterrà tutte le certezze, se resterà poi a un palo, lui credo di sì, però Tesman magari è molto richiesto, Busio è molto richiesto, c'è anche Izzes, che secondo me è il difensore più forte, anche a livello fantacalcistico potenziale, del Venezia, che l'anno scorso comunque giocava a Braccetto, bisogna vedere giocando a 4, che tipo di ruolo potrebbe fare, Candela, ottimo esterno, che nel caso di Fesa 4 deve fare il terzino, quindi vediamo un po' le due, vediamo un po' i due schemi, come potrebbero, diciamo, variare nella lavagna tattica, dove ci andiamo a tuffare, e poi torniamo qui per la solita parte dei calci piazzati. Eccoci nella lavagna tattica del Venezia, come ha detto anche di Francesco, nella prima conferenza stampa, insomma, non vuole snaturare il lavoro di Vanoli, e quindi si riparte probabilmente con la difesa a 3, anche perché appunto ci sono giocatori, ci sono tanti centrali, Izzes, Svoboda, Altare, Sverco, che sono comunque i centrali, che si trovano, secondo me, e secondo quello che hanno fatto anche l'anno scorso, con il meglio con la difesa a 3, Zampano e Candela, anzi, Candela e Zampano sulle fasce, e qui naturalmente arriva un po' la differenza rispetto alla scuola di Vanoli, che giocava comunque con un 3-5-2, era un 3-5-2 dove uno dei due, delle due mezzali, anzi in realtà spesso tutti e due, comunque uno soprattutto che era Busio, andava spesso in attacco, a cercare comunque ad affiancare le due punte, che poi potevano essere o Pierini e poi Ampalo, quindi Pierini più largo, perché comunque è un esterno, o poi Ampalo e Gittkier, quindi diciamo era un 3-5-2, a volte anche ibrido. Con Di Francesco l'idea è quella di proseguire sul lavoro che ha fatto nel Frosinone, nella seconda parte, quindi 3-4-2-1, l'unico dubbio che mi viene, anche perché comunque il Venezia è ancora un cantiere aperto, perché Tesman non è andato via formalmente, ma è andato via praticamente in maniera sicura, e non è ancora arrivato il Belga dell'Org, che potrebbe essere un giocatore forse leggermente diverso da Tesman, un po' più difensivo, molto forte fisicamente anche lui come Tesman, però chiaramente parliamo di un 19enne, che ha giocato in Belgio, e quindi si dovrà sicuramente ambientare. Per questo, secondo me, se Di Francesco potrebbe giocare davvero col 3-4-2-1, in cui Oristanio potrebbe fare un po' il sule del Frosinone, c'è un giocatore come Busio che effettivamente la sua propensione offensiva, il suo attaccare a suoi spazi, secondo me lo fa inserire come trequartista dall'altra parte, questa potrebbe essere una soluzione per non sbilanciare troppo la squadra, per avere comunque un punto di riferimento, perché comunque Busio poi alla fine ha giocato tante volte nella mediana, però ha sviluppato questa capacità offensiva, che sarebbe anche un peccato perderla, nel senso che è un giocatore che comunque ha una, diciamo, è un classico box-to-box, nel senso che riesce ad andare spesso in avanti, con efficacia, porta palla, ha una conduzione di palla molto interessante, appunto si sa comunque inserire, c'è da dire che comunque Di Francesco è uno che è anche molto attento alle fasce, quindi qui Candela e Zampano saranno sicuramente importanti, e sarà importante anche avere delle alternative sulle fasce, che in questo momento forse un po' mancano, si può adattare qualcuno, l'anno scorso ci ha giocato sulla fascia qualche volta di Arcason, però penso arriverà anche lì qualcosa dal mercato. Il problema però di avanzare Busio è naturalmente che in mediana, appunto con De Lorge che abbiamo detto che potrebbe arrivare, restano i vari Bjarkason, Lella, Ellerson, Andersen, e bisogna vedere quali tra questi potrebbero essere i giocatori adatti, devono essere comunque due giocatori attenti, molto attenti in fase difensiva, perché comunque se diciamo l'anno scorso è vero, in alcuni casi hanno giocato Mazzitelli e Brescianini, Mazzitelli e Barenecea, qualche volta anche Brescianini, appunto che faceva un po' il Busio, cioè andava molto in avanti, e quindi spostava questo 3-5-2, lo trasformava in un 3-4-2-1, quindi è capitato già al Frosinone, anche perché poi per tanto tempo a Rui, che veniva spostato sulla fascia sinistra, più quando giocava a 4, comunque quando giocava in questa maniera, sì, giocava sicuramente un po' più avanzato, quindi diciamo che lui ce l'ha già l'idea di avere un giocatore più offensivo, come potrebbe essere Oristanio, qualche volta anche Pierini, però l'altro trequartista, l'altro sottopunta, se vogliamo, deve essere un centrocampista offensivo, e quindi qui l'idea che potrebbe essere Busio, però mancano i giocatori in mezzo. Tatticamente, quindi come dicevamo appunto, uno delle due sottopunta, che va comunque a formare in fase di non possesso un 3-5-2, con Oristanio che comunque, naturalmente essendo un mancino, è più portato a partire da destra, e magari con la sua velocità cercare di andare alle spalle di Poyampalo, tante volte, cercare di rientrare col sinistro, deve comunque essere più efficace in zona goal, però l'idea è questa, insomma, di avere un attacco a tre, con un centrocampista offensivo davanti, con l'aiuto soprattutto delle fasce. La difesa, tutto questo in realtà con la palla a terra, quindi difficilmente vedremo tanti lanci lunghi, ovviamente qualcuno ogni tanto sì, però Di Francesco è uno che comunque ama, andare palla a terra, non è un tecnico che si affida al lancio lungo, in maniera, diciamo, continua, e la difesa, insomma, sì, abbastanza alta, però media sulla tre quarti difensiva, non vedremo, difficilmente vedremo giocatori che vanno molto in avanti, diciamo che dei tre difensori, compreso anche Altare, che dovrebbe essere l'alternativa, forse solo Izzes è l'unico che ha la capacità magari di uscire in aggressione sull'attaccante, accorciare sull'attaccante avversario, e poi eventualmente anche poter scappare indietro con buona efficacia, Svoboda è più un difensore di posizione, così come Sverco, così come lo stesso Altare, quindi non credo che alzerà troppo la difesa, perché appunto magari Izzes qualche volta avrà qualche libertà in più di andare in aggressione, meno gli altri che più verranno ad attenderli in fase difensiva. Sicuramente credo che Di Francesco, allenando nuovamente una squadra che lotterà per la salvezza, qualche accorgimento come aveva fatto, in realtà anche nel finale di stagione col Frosinone, lo farà perché la possibilità, comunque in questo momento la salvezza, visto come le avversarie, resta comunque difficile da neopromossa, e quindi deve cercare qualche accorgimento, magari partire forte come ha fatto l'anno scorso col Frosinone, però mantenendo poi durante l'anno una buona qualità e lanciando un giocatore come Oristanio, che potrebbe essere con le dovute proporzioni, insomma il sule di questa stagione per Di Francesco. Quindi diciamo, i concetti sono palla a terra e difesa non troppo alta, aggressione non eccessiva, insomma sì sul primo controllo, sulla palla persa, ci sarà magari un terzino che aiuterà, ma insomma tendenzialmente la squadra dovrà avere un atteggiamento abbastanza guardingo e non andando ad aggredire in maniera eccessiva, perché non ha i giocatori per fare un'aggressione, e Di Francesco non è poi un tecnico che non ama stare sicuramente troppo indietro, ma nemmeno un'aggressione così feroce come magari fanno altre squadre. Adesso torniamo in studio per i calci piazzati. piccola analisi sui calci piazzati, non c'è in realtà tantissimo da dire, nel senso che il Frosinone scorso, dell'anno scorso, era una squadra che segnava tanto e subiva tanto. Quindi l'abbiamo detto l'altra volta con il video del Torino, di Vanoli, il Venezia era una squadra media da questo punto di vista, però in Serie B. Quindi vediamo, vediamo se sarà a merito di Di Francesco, insomma sicuramente segnare tanto il fatto che comunque tendenzialmente anche nelle stagioni passate Di Francesco riusciva a trovare, a tirar fuori qualche schema interessante, anche perché poi comunque aveva giocatori importanti alla Roma, ad esempio, allo stesso Sassuolo, comunque c'era Berardi che batteva bene i calci piazzati, poi c'era addirittura all'inizio Pellegrini quando i primi anni con il Sassuolo, quindi giocatori validi e colpitori interessanti, quindi tendenzialmente le squadre di Francesco hanno sempre segnato abbastanza sul calcio piazzato, questo può essere un ottimo punto di partenza. Difensivamente invece comunque ne ha sempre subiti, col Frosinone sicuramente di più, ma anche nelle altre squadre, quindi lì può essere un fattore negativo, quindi però insomma già segnarne tanti può essere un punto di partenza per il Venezia che nell'ultimo anno insomma con Banoli non ne segnava tantissime e soprattutto in Serie B, quindi se dovessi mantenere un range diciamo di 8, 9, 12 reti da raccio piazzato sarebbero punti importanti, quindi devo dire che potrebbe essere un fattore importante per il Venezia. Questo poi ne parleremo quando parleremo dei calciatori, parleremo insomma in generale di tutta la squadra come tutte le 20 squadre anche del Venezia di Francesco e quindi spero che vi sia piaciuto il video e naturalmente lasciate un like eventualmente un'iscrizione che è sempre utile se vi è piaciuta, se volete e a noi vi fa oltremodo piacere e poi aspetto anche la vostra reazione nei commenti che è sempre ben apprezzata e niente vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti